Questo è un video rivoluzionario, vedremo come è possibile cuocere la ceramica nel nostro forno a microonde grazie al fornetto magico. Vediamolo insieme. Il fornetto magico essenzialmente è un contenitore in fibra refrattaria rivestito internamente di un materiale speciale che grazie alle microonde crea il calore necessario a cuocere la ceramica. Il fornetto magico è prodotto da Linearte Sebino ma potete acquistarlo sul mio sito web www.ceramicapertutti.it con un piccolo sconto e la consegna gratuita. Vedremo com'è facile fare una cottura a smalto in soli 35 minuti. Di che cosa abbiamo bisogno? Sicuramente delle nostre creazioni da smaltare, del nostro smalto, di un forno a microonde di almeno 850 watt e chiaramente il nostro fornetto magico. Procediamo a smaltare i nostri oggetti, quindi io qui ho preparato uno smalto rosa e smaltiamo i nostri due bicchierini. Prima l'interno, in questo modo qui, via, adesso l'esterno, lasciamo scolare, lasciamo lo smalto, voilà, e lasciamo asciugare un poco il nostro smalto. Una volta che il nostro smalto sia asciugato, prendiamo i bicchierini e li inseriamo nel fornetto, come al solito, stando attenti a non farle toccare né fra di loro e né alle pareti del fornetto. In questo modo qui, chiudiamo il fornetto e siamo pronti per inserirlo nel microonde. Inseriamo il fornetto nel microonde, chiudiamo, e impostiamo 800 watt per 35 minuti. E voilà, e lo facciamo partire. Una volta che sono passati 35 minuti, apriamo il forno a microonde, estraiamo il fornetto, lo posizioniamo su un supporto qualsiasi che sia refrattario, in questo modo qui. Controlliamo velocemente il colore della camera di combustione, perfetto. Lo richiudiamo e con un cono di fibra refrattaria in dotazione col fornetto, chiudiamo lo spioncino in modo che il forno non si raffreddi troppo velocemente. Aspettiamo una mezz'oretta e poi lo potremo aprire. Come per magia, dopo solo mezz'ora quindi possiamo aprire il nostro fornetto magico e prelevare le nostre creazioni in ceramica, vedete? Sono uscite perfette. Controlliamo il suono. Perfetto. Vi ricordo che potete acquistare il fornetto magico sul sito www.ceramicapertutti.it con un piccolo sconto e la spedizione gratuita. Avete visto come è stato facile cuocere la ceramica senza dover spendere migliaia di euro per un forno professionale? Con il fornetto magico possiamo iniziare a sperimentare e a muovere i primi passi nella lavorazione della ceramica. Se vi è piaciuto questo video mettete un like, condividete, iscrivetevi al canale per non perdervi nessun altro video di quelli che pubblicherò sia sulla ceramica e sia con la cottura con il fornetto magico. A presto!